Due appuntamenti in uno, in effetti, un'anteprima della presentazione di un libro, ma soprattutto la presentazione del progetto Senza Sbarre. Quali sono questi due appuntamenti? Il primo è dire a tutti quanti che c'è un libro che uscirà fra pochi giorni e che vuole essere uno strumento per il secondo, Senza Sbarre, dove anche io sono incredulo di questo libro che è stato scritto su di me e che vuole essere semplicemente un veicolo per dire guardate che ognuno di noi ha delle storie meravigliose, la mia magari viene raccontata, però mi meraviglio di ciò che ha operato il Signore nel corso di questi anni e sentirsi un po' pietre scartate ci fa capire quanto è importante poi scoprire le perle che il Signore ha deposto all'interno di noi. Tutto è in funzione di Senza Sbarre. Senza Sbarre è un progetto che vuole nascere nel territorio andriese a servizio di tutta la collettività, dove sono i favoriti, coloro che hanno già fatto esperienza delle carceri, ma anche coloro che stanno all'interno delle nostre carceri, non solo di Trani, ma anche della Puglia e a livello nazionale. È ambizioso il progetto perché vuole essere alternativa alle misure cautelari. Quindi noi ci auguriamo che invece di essere indifferenti iniziamo a sporcarci un po' tutte le mani. Noi usciamo allo scoperto con Don Vincenzo Giannelli, con Padre Gaetano, i padri erogazionisti, perché non possiamo stare a guardare questa nostra società che si logora giorno dopo giorno. Perché i padri erogazionisti hanno preso a cuore questo progetto? È stata un'avventura in cui ci siamo fatti trascinare da Don Riccardo e Don Vincenzo Giannelli, perché i padri erogazionisti nascono per assumere in carico la responsabilità del destino altrui. Padre Anniba Maria di Francia nel 1876 all'ingresso di Avignone, questo quartiere devastato a Messina dopo il terremoto, praticamente guidato all'interno del quartiere di Avignone da un cieco, guardò attraverso gli occhi di questo non vedente quello che era la responsabilità a cui si era chiamati, cioè assunzione in carico del destino altrui, di persone destinate alla povertà, alla miseria. Ecco perché la chiamata di Don Riccardo non si poteva non rispondere e non si poteva non accettare questa nuova sfida, anche perché i detenuti oggi sono coloro che sono maggiormente e più di ogni altra persona destinata a vivere un destino di miseria e di povertà. A lei forse è il compito più complicato, quello di mettere insieme le aziende che possano sostenere economicamente questo progetto? Sì, complicato ma affascinante perché, come diceva Antonio, non ci si poteva fermare di fronte alla potenza della passione di Don Riccardo e Don Vincenzo. In realtà al centro del progetto vogliamo porre il lavoro. Solo il lavoro può far sì che un progetto come questo coniughi i buoni intendimenti dei padri legazionisti, di Don Riccardo e di Don Vincenzo con la possibilità effettiva di realizzare il sogno di riportare le persone, le persone in questo momento svantaggiate, a poter costruire un progetto di vita personale. Solo il lavoro. E allora avere a disposizione spazi, una masseria importante come quella di San Vittore non si può immaginarla se non portando via attività produttive perché altrimenti vuol dire aver perso il progetto, il senso del progetto. L'attività produttiva vuol dire portare imprenditori, imprese, finanza, economia, manager che portino risorse finanziarie e capacità di organizzare perché bisogna uscire dalla logica dell'essere autodidatti a saper fare tutto. C'è chi sa fare bene il prete, chi deve fare bene l'assistenza ma se poi si vuole creare un progetto imprenditoriale ci vogliono competenze e denari adeguati. E noi ci vogliamo provare pensando che oggi la strada è molto difficile ma un po' per la provvidenza e un po' perché c'è bisogno anche per gli imprenditori di investire in modo diverso e più, devo dire, non virtuoso ma più saggio e anche più aperto alle necessità del territorio possa essere anche una buona opportunità di investimento. È importante che ad assistere al debutto di questo progetto ci sia anche un magistrato della procura che non può non guardare con interesse e attenzione a questa iniziativa. Io direi che è fondamentale, sono fondamentali iniziative di questo genere perché noi della procura, noi magistrati in genere interveniamo quando il male c'è già stato ed è difficilissimo recuperare e ovviamente copriamo una parte del problema che è l'aspetto punitivo però l'aspetto da un lato preventivo e dall'altro l'aspetto di risocializzazione della persona che ha compiuto quel reato non tocca a noi quindi diciamo noi siamo un piccolo segmento di tutto un percorso che deve essere compiuto perché non è possibile accettare il crimine così come bisogna prevenire e bisogna eventualmente di dove non si sia riuscita una prevenzione bisogna eventualmente cercare di recuperare le persone e quindi come vedete questo progetto non è un progetto estraneo alla nostra attività, è un progetto decisamente complementare di pari dignità che è una parte anche questo di tutto un percorso che una società civile dovrebbe compiere.